15 milioni di euro sequestrati tra immobili e contanti riconducibili alla banda dedita alle rapine ai portavalori i cui capi sono ritenuti Giovanni Orianas di Villa Grande e Luca Arzu di Talana. Quattro persone arrestate, un commercialista Nicolò Pasquale Bellu di Agius, un imprenditore Roberto Serra 52 anni di Quartu e le compagne di Orianas Silvana Conti 46 anni di Villa Grande e di Arzu Tania Serra 32 anni di Loiri Porto San Paolo. Sono questi gli ultimi sviluppi dell'indagine della Direzione Distrettore Antimafia di Cagliari che il 19 marzo scorso aveva portato a disarticolare un'organizzazione dedita all'assalto di portavalori in tutta l'isola con l'arresto di 23 persone. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamattina nel corso di una conferenza stampa nella questura di Cagliari. La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito le misure cautelari firmate dal GIP del Tribunale di Cagliari Cristina Ornano su richiesta del Pubblico Ministero Danilo Tronci che ha coordinato le indagini. Le fiamme gialle hanno posto i sigilli ad un resort, a sei appartamenti sulla costa galurese, a un'autovettura, a un motociclo, conti bancari e polizie assicurative. Un patrimonio milionario secondo gli inquirenti è riconducibile ai capi della banda dei rapinatori sgominata dalle squadre mobili delle questure di Nuoro e Cagliari e dalla Guardia di Finanza di Nuoro. Si tratta dei beni di Giovanni Orianas, ex vice sindaco di Villa Grande, e del pluripergiudicato Luca Arzo. Per gli inquirenti il tesoro della banda è frutto di vent'anni di attività illecite. Le indagini hanno consentito di dimostrare come Orianas e Arzu siano riusciti nel tempo ad accumulare tante ricchezze. Per camuffare i proventi illeciti, sottolineano gli inquirenti, Orianas conduceva una vita morigerata vivendo dallo stipendio di forestale, ma un particolare lo ha tradito. Nonostante avesse una moglie e tre figli da mantenere, non toccava i soldi accreditati. Questo secondo gli inquirenti perché disponeva del contante e frutto delle rapine. Soldi investiti nel resort o gli astra bici, la cui gestione era affidata a un socio arrestato stamattina. Denari investiti attraverso la moglie finita ai domiciliari. La gestione del resort era affidata a un imprenditore turistico, ritenuto il prestanome di Orianas, dal quale riceveva direttive, e il denaro da riciclare. Una struttura realizzata su 40 ettari di terreno acquistati nel 1988, con 400 milioni in contanti che l'imprenditore, allora studente di 24 anni, non poteva possedere. Meno discreto nelle spese, invece, Luca Arzu, che a fronte di redditi minimi, si permetteva lussuose vacanze, appartamenti, auto e moto di lusso. Tra gli arrestati figura anche la compagna di Arzu, ritenuta complice nell'azione del riciclaggio. Per giustificare il denaro, Arzu si era fatto assumere come impiegato a tempo indeterminato da un commercialista finito ai domiciliari. Un'assunzione fittizia per gli inquirenti, che serviva solo a riciclare il denaro frutto delle rappine. Grazie. 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 Grazie.